Io credo che si tratti molto più di questo, perché lo Stato di diritto è l'Unione Europea, l'Unione Europea è essenzialmente il suo Stato di diritto, non è soltanto un pezzettino del suo processo di evoluzione, ne è parte assolutamente fondante e io credo che se questo processo di integrazione conoscerà un'evoluzione, un allargamento come naturalmente io auspico, come mi auguro, questo dipenderà dalla capacità che noi avremo di rendere le libertà e i diritti fruibili in uno spazio che è appunto sovranazionale o i diritti e le libertà sono fruibili per ciascun cittadino e ciascuna cittadina d'Europa in qualsiasi punto della nostra Unione, in qualsiasi condizioni oppure saremo di fronte a un grande fallimento, chiamiamola così, e io sono molto grata al Consiglio Europeo dei Notariati di aver voluto, e alla sua Presidenza italiana naturalmente, di aver voluto impostare il lavoro di quest'anno esattamente su questo aspetto. Grazie. 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 Grazie.